boh luminosità bassissima ragazzi ma forse forse è meglio così no a parte gli scherzi non devo usare le sconfitte dell'inter come scusante perdonatemi ma insomma non come sapete non ho né il tempo né la possibilità di alzare la qualità questo è chi vuole starmi a sentire chi vuole ascoltarmi chi vuole vedermi chi vuole sapere cosa penso della mia inter volta per volta partita dopo partita se lo guarda pure così purtroppo poi sappiamo che il mio canale sprofondato quindi però non è questo il caso di parlarne scusatemi se la scorsa gara non l'ho commentata non era mai successo l'anno scorso spero con tutto il cuore che non succederà più quest'anno ma stavo male avevo 39 di febbre non potevo assolutamente commentare la partita perdonatemi mi difesco chi magari mi segue altrimenti non ha importanza e l'inter che cosa dobbiamo dire il torino batte l'inter 1 a 0 grazie al gol di testa di armando itzo probabilmente anche irregolare bisognerebbe dirlo perché insomma se fosse stato irregolare l'inter non avrebbe o meglio se fosse irregolare l'inter avrebbe perso immeritatamente quindi l'arbitro avrebbe dovuto fischiare però o meglio controllarlo al VAR e poi toglierlo però lasciamo perdere insomma non abbiamo perso soltanto per colpa di quella situazione però se il gol è stato irregolare se armando itzo ha commesso fallo su d'ambrosio forse c'è anche questo aggravante io però con l'arbitro me la prendo per l'inspiegabile espulsione di Matteo Politano dillo che l'hai fatto apposta dillo che è l'unico giocatore e lo sai l'unico giocatore che poteva fare qualcosa l'hai voluto cacciare ti sei trovato in quella situazione e hai detto mo lo caccio dai di la verità caro Maresca perché altrimenti non c'è altra giustificazione nei tuoi confronti l'hai voluto cacciare vabbè non fa niente ti sei tolto questo sfizio io fossi nel giudice sportivo prenderei dei provvedimenti ma tanto loro non fanno mai niente quindi non importa comunque abbiamo giocato male l'arbitro non ha arbitrato male tranne per il fatto che potevi cacciare Belotti che per tutta la partita buttarsi per terra a fare i falli a comportarsi in maniera antisportiva o Zazia che poi Mazzarri furbescamente ha tolto alla fine piuttosto che Politano però per il resto non ha arbitrato male o quantomeno non malissimo e l'Inter ha giocato invece molto male a parte i primi 15 minuti e qualche squillo durante la gara forse nel secondo tempo ma veramente poco o niente nel secondo tempo il Torino ha giocato molto meglio e neanche loro non è che abbiano fatto di sé cosa però rispetto a noi sicuramente hanno fatto meglio e quindi io direi che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto però ragazzi proprio per cercare di trovare qualcuno che abbia meritato perché altrimenti né noi né loro nessuno avrebbe meritato nulla stasera però il Torino non aveva ambizioni ha giocato in maniera antisportiva ha giocato per perdere tempo ha giocato per strappare più punti possibili e ne ha portati 3 a casa noi avremmo dovuto vincere siamo teoricamente andati a Torino per vincere anche se poi non l'abbiamo dimostrato e ne abbiamo portati a casa 0 quindi il Napoli ci porta via un altro punto e va bene così insomma 8 punti più di noi se non sbaglio il Napoli ammazza spallettino mio cioè che te sei inventato stavolta Politano in panchina ha messo la fine poi lui si è fatto espellare ingiustamente va bene Keitano non so che fine abbia fatto Persic ha chiesto di essere ceduto meriterebbe un applauso Persic bravo bravo pure tu che chiedi di essere ceduto Lautaro ha messo Lautaro però non mi fa giocare Mike Andreva me lo fa entrare alla fine Nainggolan entra in campo e non fa nulla quindi un po' gli errori di spalletti un po' gli errori nostri come giocatori, come squadra abbiamo fatto bingo fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Torino-Inter 1-0 gol di Izzo forse irregolare, forse no un'Inter scandalosa e speriamo sia stato soltanto un caso giovedì un caso un caso che ogni tanto deve tornare altrimenti non siamo contenti giovedì la Lazio in Coppa Italia domenica prossima il Bologna boh speriamo bene Politano quindi fuori un turno inspiegabilmente la cosa più drastica di questa gara e pensate un po' a che livelli siamo visto che è tutto drastico è proprio l'espulsione di Poli Poli ciao a tutti sempre e comunque sempre e comunque forse inter nella gioia e nel dolore ciao ragazzi e Mazzarri che ti devo dire hai avuto la meglio come Gasperini anche in questo caso ciao ragazzi forse inter grazie a tutti